Mi sono arrivati i nuovi ple di Somma. Sono completamente fatti in Italia e per Somma è un grande orgoglio. Sono in lana e vengono confezionati in questa bellissima scatola che può essere anche presentata come idea regalo. All'interno vi faccio vedere, ci sono dei ple e sono 130x190 compresi le frange e le frange ce le hanno un pochino tutti. Sono double face, da una parte è di un colore e dall'altra in tonalità. C'è una piccolissima percentuale di cashmere in maniera che lo rende veramente morbido al tatto ed avvolgente. Ce l'abbiamo in tanti colori, c'è il beige con il grigio, il turchese con l'azzurro polvere. Questi due sono un pochino a fantasia, romboidale, da una parte è ocra e dall'altra grigio o beige e grigio. E poi c'è questo nei toni naturali e questo nei toni ocra e grigio. Vedete, viene applicata questa bellissima etichetta, sembra di camoscio, che li marchia col marchio proprio Somma. Vi aspetto nel nostro sito e-commerce materasiburani.it